Siamo sicuramente leader nel settore nel sud Italia. Se invece parliamo di tendenze piuttosto che gusti, sicuramente oggi il cliente è molto attento all'effetto wow. Prima avevi un'attività commerciale che faceva bar, ristorante, pizzeria. Adesso si è sempre più, ognuno si è sempre più specializzato in qualcosa. I locali sono sempre più articolati, il cliente stesso è sempre più attento all'aspetto estetico. Ogni cliente in base alla tipologia di locale, perché potrebbe essere un ristorante piuttosto che un bar, in base anche alla tipologia di prodotto che loro devono vendere, si va sempre più a costruire un progetto adatto alle loro esigenze. Il cliente non vuole più rinunciare alla velocità del suo servizio, alla qualità del suo cibo, motivo per il quale oggi si parla anche di ristoranti 4.0, il giusto equilibrio tra velocità del servizio e qualità del cibo. L'innovazione tecnologica è al primo posto e da lì si costruisce l'attività. Noi abbiamo un vantaggio, abbiamo una produzione diretta all'interno della nostra struttura, quindi siamo pronti a soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. Noi oggi abbiamo la possibilità di fornire anche un semplice forno, dove attraverso uno smartphone non è possibile comandarlo qui a distanza. Quindi addirittura il cliente può programmare la cottura. Parliamo di forni sempre più specifici per determinate tipologie di cottura e mentre prima tu avevi un forno in cui dovevi cuocere con lo stesso programma i cornetti piuttosto che il salato, oggi tu hai la possibilità di avere un forno che per ogni tipologia di alimento c'è una programmazione ben precisa. Quali sono i vantaggi? Velocizzare in questo caso la cottura di un alimento. Esistono vetrine sempre più tecnologiche che ti permettono di mantenere il cibo e questo è un vantaggio non da poco perché gli sprechi sono sempre meno, ma soprattutto hai la qualità del cibo, hai sempre un cibo fresco.